Castellabate, provincia di Salerno, mi trovo qui in occasione dell'evento Castellabate per Chico dove diverse associazioni del comune di Castellabate e del territorio si sono messe insieme per raccogliere fondi da destinare al piccolo Chico di Stella Celento. Proprio dall'associazione è partita questa grandissima iniziativa, questa maratona di solidarietà per Chico che ci è entrato subito nel cuore. Si sono subito mobilitate tutte le nostre tante associazioni di Castellabate, i gruppi parrocchiali, i volontari, tutta Castellabate si è mobilitata per il piccolo Chico e penso che abbiamo raggiunto degli ottimi risultati stasera. È andata molto molto bene, c'è stata tantissima gente, abbiamo raccolto tantissimi soldi per il piccolo Chico. È una piccola somma rispetto a quello che serve, però il nostro gesto come Proloco e come tante associazioni del territorio penso che abbiamo dato un grosso grosso contributo. Donate quanto più possibile perché la somma per poter fare l'intervento è davvero importante, parliamo di 500.000 euro, quindi è una grande grande somma, quindi c'è bisogno del supporto di tutti. Donate, donate perché è un bimbo di 5 anni e ha bisogno del nostro aiuto. Com'è andata oggi questa raccolta per il piccolo Chico? Guarda, dalla partecipazione della gente, da come si è dimostrata oggi la piazza, penso positivo. Credo sia la cosa principale, cioè quella di unirci tutti quanti a prescindere adesso da quelle che sono le esigenze, non le esigenze, perché poi si sente dire tante cose che possono sminuire quella che invece è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che c'è un guerriero che ha bisogno di un suo esercito e noi siamo il suo esercito, io sono un soldato, voglio combattere con lui perché lui adesso ha semplicemente questa esigenza, vuole dimostrare di essere un guerriero e una persona così forte, così capace e noi ci prestiamo a questo. Sono molto felice di essere qui questa sera con i ragazzi della TP Band, con Roberto, Frank e Michelangelo. Abbiamo contribuito anche noi a questa bellissima iniziativa organizzata dal Comune di Santa Maria, con Enrico Nicoletta e tutti i ragazzi che hanno contribuito, ci sono tantissimi artisti, tantissimi amici ed è bello essere riuniti per una causa così importante. È una serata strepitosa ed emozionante e ti dico che io mi sono emozionato mentre cantavo, sentivo un'emozione strana, di solito non è così, probabilmente la beneficenza è sentita e quindi la sentivo tantissimo. Un'ottima organizzazione, un ottimo fonico, veramente grazie a tutti e io credo che sia una serata veramente ben riuscita per opera dei musicisti che ci stanno e per opera degli stand, per opera di tutti quanti gli addetti ai lavori. Ciao Chicco, alla grande, andrà alla grande, un bacio grande con tutto il cuore. Soddisfazione è stata espressa dal responsabile dell'ufficio di promozione turistica del Comune di Castellabate, Enrico Nicoletta, che ha organizzato la manifestazione insieme a tutte le associazioni del territorio e tutti coloro che hanno preso parte alla giornata solidale. Abbiamo raccolto 25.000 baci per il piccolo Chicco, ha dichiarato ai nostri microfoni Enrico, emozionato del risultato raggiunto. Il grande cuore dei cittadini di Castellabate, continuo Enrico, anche questa volta ha dimostrato di essere unito e compatto per una giusta causa, grazie a tutte le persone che ci hanno aiutato e grazie a tutti coloro che si sono messi in gioco con la loro professionalità.